Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono un medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale e maxillofacciale da oltre 30 anni. Il componente estremamente interessante ed utile di tutto l'allestimento Handy Surgery è il gruppo idrico e aspirazione, che ha la caratteristica di essere facilissimamente mobilizzabile, quindi può essere spostato estremamente vicino al paziente. Questa è una cosa estremamente utile quando l'operatore in situazioni anche a volte di emergenza può doversi trovare ad operare anche da solo, quindi a due mani e quindi ha la possibilità di accedere alla parte di aspirazione con estrema facilità. Altra caratteristica analoga a quella che abbiamo già visto sia sull'Easy Tray che sul MyCart è quella del fatto che i supporti nei quali sono posizionati gli aspiratori possono essere facilissimamente rimossi e autoclavabili, quindi abbiamo anche in questo caso la possibilità di agire sempre in zone che sono state totalmente sterilizzate, quindi con il rispetto della sterilità durante le operazioni che riguardano l'intervento stesso. Altra caratteristica è quella di poter inserire direttamente sul gruppo di aspirazione le normali cannule siliconiche sterilizzate che vengono utilizzate in sala operatoria. Questo ci permette appunto di collegare direttamente all'aspiratore senza doverlo estrarre per poterlo attivare perché abbiamo un pulsante con il quale la funzione di aspirazione può essere inserita o disinserita. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.